L'ASL Salerno informa ai cittadini che presentano comorbidità senza connotazione di gravità, ovvero non elevata fragilità, di età inferiore a 60 anni, che l'inserimento in piattaforma avviene esclusivamente attraverso il medico di medicina generale, il medico di famiglia, secondo quanto previsto dalle raccomandazioni sui gruppi target delle vaccinazioni anti-SARS-CoV-2. Si ricorda che nella categoria 4 persone con comorbidità di età inferiore ai 60 anni senza quella connotazione di gravità riportata per la fragilità sono incluse le persone affette da patologie o situazioni di compromissione immunologica che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid-19, seppur senza quella connotazione di gravità riportata per le persone fragili ad elevata fragilità. In gran parte le tipologie di patologie prese in considerazione sono le medesime assunte per le persone estremamente vulnerabili, ma il livello di gravità considerato è inferiore. Le aree di patologia come da relativi codici di estensione, malattie respiratorie, malattie cardiocircolatorie, malattie neurologiche, diabete, altre endocrinopatie, HIV, insufficienza renale, patologie renale, ipertensione arteriosa, malattie autoimmuni, immunodeficienze primitive, malattia epatica, malattie cerebrovascolari, patologia oncologica.